Siamo in compagnia di Marietta Tidei, candidata alle regionali e con il terzo polo a sostegno del presidente D'Amato. Manca pochissimo per la chiusura di questa campagna elettorale. Com'è stata questa campagna elettorale? È stata una campagna bella, come ogni campagna elettorale, una straordinaria esperienza umana. Io ho incontrato migliaia, letteralmente migliaia di cittadini e cittadini in giro per tutta Roma e provincia e come al solito le persone in campagna elettorale ci consegnano riflessioni, problemi, sogni, bisogni. Quindi bello. Comunque finiremo portando con noi sicuramente tutte queste stanze, ma tutta l'umanità comunque che abbiamo incontrato. Sperando chiaramente poi di meritare la fiducia delle persone che in questo momento mi stanno sostenendo chiaramente. Quali sono le richieste o le domande più frequenti tra le persone che hai incontrato? Ma intanto soprattutto le questioni sanitarie e anche quelle poi di sviluppo economico, quelle sanitarie perché noi veniamo comunque da una stagione come quella del Covid in cui chiaramente la sanità ha anche un po' riacquistato centralità anche nella vita, io direi anche nell'immaginario delle persone. Io mi sento di poter dire che comunque Alessio D'Amato è stato un bravissimo assessore alla sanità, per questo noi anche come terzo polo abbiamo fortemente spinto la coalizione a indicarlo come candidato presidente. Ha vinto la battaglia contro il Covid, ha fatto sì che comunque il Lazio diventasse un modello nelle vaccinazioni e questo credo che sia innegabile, ci è riconosciuto da chiunque. E soprattutto è stato l'assessore che ha portato la sanità fuori dal commissariamento, perché poi qualcuno avrà la memoria corta, però io vorrei ricordare che grazie all'amministrazione di centrodestra la sanità regionale è stata commissariata per 12 anni, il che ha voluto dire non poter assumere medici, infermieri per molto tempo con un blocco del turnover di fatto totale, perché comunque per ogni 10 medici che se ne andavano in pensione ne potevamo assumere uno. Oggi fortunatamente non è così, Alessio D'Amato ha tirato fuori la sanità del commissariamento, abbiamo pagato tanti debiti, abbiamo risanato e soprattutto abbiamo inaugurato una stagione di crescita. Ora anche grazie ai fondi del PNRR c'è un grande piano di sanità territoriale, che vuol dire ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali, diffuse su tutto il territorio laziale, anche in quei territori che sono più remoti comunque, che non sono così fortunati e che magari non hanno la presenza vicina di un ospedale. Anche qui, chiaramente anche tra Civitavecchia, Santa Marinella, ci sarà un ospedale di comunità, case di comunità e questo credo che sia qualcosa di importante perché va proprio in linea con quello che un po' ci ha insegnato il Covid, e che quindi la prossimità è una cosa assolutamente importante. In più, io voglio ricordarlo, c'è stato lo sblocco di un miliardo sull'edilizia sanitaria, oggi nel Lazio, mentre la Polverini aveva un piano di chiusura degli ospedali, queste amministrazioni ne stanno costruendo sei in tutto il Lazio, sei grandi ospedali, più la ristrutturazione da parte, diciamo, della Santa Andrea e dei Belcolle. Quindi significa che comunque c'è stato un investimento serio e nonostante le difficoltà, non si è proceduto a tagliare e basta, ma si è proceduto anche ad investire. E poi voglio ricordare le tante assunzioni che sono state fatte, quindi 10.000 stabilizzazioni, non è cosa da poco, perché comunque in questi anni, negli anni del commissariamento, noi abbiamo perso 12.000 operatori sanitari e quindi è chiaro che la sanità ne ha risentito. Però adesso stiamo assumendo. Punti cardine per quanto riguarda la sanità, al di là, insomma, di questi posti di lavoro che sono prossimi e a quelli che sono appunto i punti di contatto a livello più territoriale? Appunto, come dicevo prima, un grande piano per la sanità territoriale e poi, chiaramente, il grande tema del recupero delle liste d'attesa, che deve essere, diciamo, una priorità programmatica. Già da luglio la Regione ha messo 49 milioni di euro per recuperare, sia nel pubblico, sia con l'ausilio del privato, tutte quelle prestazioni diagnostiche di cura che comunque avevamo perso anche durante il Covid, perché poi la verità è che lo stesso Covid ha rallentato di molto anche le prestazioni sanitarie. Voi ricorderete che di fatto c'è stata una sanità quasi completamente assorbita dalla pandemia. È un tema, però, così come è il tema appunto quello delle assunzioni, perché poi noi possiamo anche costruire gli ospedali di comunità e le case di comunità. Lo facciamo, tra l'altro, con i fondi del PNRR, quindi sono fondi europei che l'Europa ci dice di spendere in questa maniera. Però se poi questi luoghi non li animiamo con medici, infermieri, con operatori sanitari, ovviamente non servono a nulla. Ecco, è stato un grandissimo errore, e qui il centro-destra ha delle responsabilità pesantissime, non utilizzare il messo sanitario. Sarebbero stati 36 miliardi di fondi freschi che potevano servire anche ad assumere, perché i fondi del PNRR servono ma vanno in investimenti. Qui c'era bisogno anche di nuove assunzioni, di nuove, e quindi di fondi che potessero salvare. Ecco, lì credo che veramente una contrapposizione ideologica è l'aver voluto affrontare questa questione solo in termini ideologici, come ha fatto prima, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, e poi come ha fatto adesso il centro-destra, sia stato un errore madornale, perché quei soldi servivano e perché comunque servivano per rendere una sanità più in grado appunto di rispondere alle esigenze dei cittadini. Grazie a tutti.